Grazie al direttore Lampis, effettivamente questi dati sono interessantissimi e ci confermano che questo nostro lavoro non è un lavoro da elite, ma è un lavoro di chi vuole contribuire a determinare il futuro di questo paese, per cui questo intervento ci dà moltissima energia. Andiamo avanti con un piccolo cambiamento nella scaletta, Mario Scalini il direttore del Polo Museale, lo mettiamo in chiusura di questo primo panel, per cui passo la parola a Vincenzo Santoro, responsabile cultura e turismo dell'Anci. Ora i comuni hanno un ruolo strategico evidentemente per la crescita del sistema museale, sono responsabili, poi dopo vedremo i dati della maggior parte dei musei, sono coloro che governano il territorio e quindi Anci non può non essere compagno come è stato fino adesso di questo percorso. Grazie. Grazie per l'invito a questa interessantissima e anche molto partecipata e questo è molto positivo iniziativa che si colloca mi pare bene nel percorso dell'implementazione del sistema museale nazionale, perché siamo alla vigilia dell'avvio dell'accreditamento. Come sapete l'accreditamento si può fare in due modi, o le regioni aderiscono in blocco perché i propri livelli, perché hanno dei livelli minimi, perché hanno un sistema e il loro sistema è compatibile col sistema nazionale, oppure in altre regioni c'è l'accreditamento diretto da parte delle singole strutture mediato un po' da una commissione istruttoria regionale. Questo è il piano giustamente a geometria variabile, anche per recepire le cose che diceva l'assessore, di implementazione del sistema museale nazionale. L'iniziativa di oggi mi pare sia la prima di questo tipo fatta da una regione e mi pare assolutamente positiva e quindi un plauso a chi l'ha organizzata e anche corretta come impostazione. Non a caso viene da una regione che è stata sempre all'avanguardia per questi temi, sia per come ha saputo infrastrutturarsi, sia per gli investimenti che ha saputo fare come sistema territoriale complessivo. Quindi mi pare che possa essere anche presa come esempio del percorso. Naturalmente i comuni sono assolutamente centrali in tutta questa vicenda per le ragioni che sono state dette e noi fin dall'inizio abbiamo condiviso il percorso del sistema museale nazionale che ha completato la riforma che forse nella prima fase è stata come attenzioni la riforma Franceschini, cosiddetta, eccessivamente sbilanciata sul tema delle grandi macchine da guerra con risultati importanti lasciando forse un po' in seconda battuta il tema del patrimonio diffuso del territorio, questo sia perché mancava, non era partita contestualmente il discorso del sistema museale nazionale ma anche perché rimane un po' ancora indefinita questa questione dei poli regionali statali che dovrebbero essere gli interlocutori per i processi di valorizzazione non so quanto questo si possa dire sia stato realizzato compiutamente su tutto il territorio nazionale, quello che viene dai comuni è una difficoltà a chi si rivolge il sindaco se vuole fare un progetto di valorizzazione territoriale dello Stato si dovrebbe rivolgere al polo museale regionale però i segnali che ho dal nord al sud non sono fino ad oggi soddisfacenti che abbiamo come Anci mi pare sia anche quindi anche su questo, però ne parleremo un'altra volta di questo discorso allora diciamo noi siamo stati molto, abbiamo accolto con grande interesse e soddisfazione e abbiamo condiviso insieme al sistema delle regioni la struttura della riforma e dicendo che naturalmente occorreva, occorre che questo processo tenga sempre fede al principio di sussiderietà che ci sono compiti dello Stato, che è un sistema nazionale, non vuol dire sistema statale, siamo tutti d'accordo ma è bene ricordarcele questo sistema statale o coordinato diciamo troppo dallo Stato che è un sistema che per funzionare deve valorizzare le esperienze dal basso, deve valorizzare quello che è stato fatto sia a livello di sistemi regionali sia a livello di organizzazione territoriale perché, altra questione, questo discorso del sistema museo nazionale si intreccia in generale col tema delle reti in generale, perché l'idea dell'accreditamento per esempio punto a punto ma insomma qui c'è un discorso che andrà affrontato però c'è anche una nuova iniziativa più recente che è una commissione del nuovo ministro che sta facendo audizioni molto frequenti che sta discutendo del tema della valorizzazione delle reti come strumento di gestione più efficiente da tutti i livelli dei sistemi museali soprattutto quelli diciamo medio-bassi tra virgolette in particolare ecco, quindi c'è questo discorso di valorizzare le esperienze che sono state fatte e naturalmente, la faccio molto breve occorrerà anche nel momento in cui si chiede ai territori di fare uno sforzo non solo per accreditarsi ma per migliorare le proprie prestazioni tra virgolette, per investire quindi perché c'è un livello minimo e poi c'è un livello più alto dei requisiti che ci si pone come obiettivo per arrivare al livello più alto occorrerà fare degli investimenti non è che si arriva schioccando le dita soprattutto in un momento storico complicato per la finanza pubblica in generale quindi occorrerà fare degli investimenti avere attenzione molto forte a quelli che stanno un po' indietro che vuol dire piccole strutture vuol dire strutture dei piccoli comuni soprattutto nelle aree disagiate quindi andrà fatto una riflessione su questo e anche bisognerà porsi il tema del personale perché se si vuole fare una riforma seria il tema del personale come si sta ponendo almeno negli annunci forse anche con qualche risultato diciamo ancora parziale a livello statale occorrerà porsi il problema del personale che i comuni possono mettere in gioco che i territori possono mettere in gioco sul tema della cultura perché il blocco, lo strozzamento delle piante organiche il blocco del turnover le difficoltà di bilancio stanno comportando una progressiva depauperazione del personale che gestisce musei e aggiungere biblioteche e questo è un tema che va a posto bisogna trovare il modo di sia modernizzando le forme di gestione ma a un certo punto bisognerà porsi anche il problema di ringiovanire e di rinfoltire anche perché le nozze con i fichi secchi non si fanno un dato, adesso non me lo ricordo ma c'era il dato che è venuto fuori era che ci sono molti più turisti frequentatori dei musei ma molti meno operatori nei musei considerando tutti quelli dipendenti a tempo determinato, privati eccetera quindi le nozze con i fichi secchi non si possono fare concludo, diciamo che questo è un ragionamento poi anche da ascoltare dagli altri e anche di auspici quindi non voglio farla con troppo lunga come si potrebbe fare? noi come ANCI abbiamo fatto un documento in cui proponiamo allora innanzitutto c'è un esempio negativo di intervento dello Stato su questi temi che è l'esempio che all'amico De Ombroni piacerà molto del fondo per le reti bibliotecarie cioè lo Stato non deve fare così cioè non deve istituire un piccolo fondo e finanziare direttamente al di fuori della programmazione parlo delle reti della programmazione regionale progetti diciamo estemporanei cioè occorre mettere a sistema i sistemi di finanziamento e di sostegno direi ambiziosamente anche forse un po' più a sistema anche la legislazione ma almeno i sistemi di sostegno mettendo anche insieme degli investimenti che già alcune regioni più di altre ma che in generale il sistema territoriale fa con il sistema statale il luogo dove si dovrebbero fare queste cose recependo anche il titolo quinto e c'è la conferenza unificata sarebbe molto interessante trasformarla sui temi culturali in uno strumento di programmazione in cui si mettono a sistema su linee guide condivise le risorse questo potrebbe essere una cosa importante da fare e quindi diciamo a maggior ragione un'iniziativa come questa di oggi che mette insieme una così vasta partecipazione e un livello così alto di riflessione e anche una prontezza della regione e a intervenire mi pare assolutamente un passo importante da ripetere anche fuori grazie grazie a Vincenzo Santoro che ci ha fatto già una